story time evoluzione radio eccoci qui come promesso sempre Gianluca Ruopolo e sempre in compagnia di Silvi Cupaiolo ecco per chi non si fosse perso la clip precedente sa perfettamente che abbiamo parlato Silvi di un argomento bello importante no inerente al prezzo da affibbiare ad un'abitazione quindi vi invito a seguire l'intervista quella precedente perché è stata molto molto interessante adesso passiamo un argomento più leggero insomma come si fa a preparare la casa per la vendita o per l'affitto giusto giusto approfondiamo questa è la parte diciamo più divertente più creativa più creativa di questo lavoro allora ovviamente è necessario fare in modo che la casa prima di poter essere fotografata e quindi poi in qualche modo comunicata no attraverso i portali poi magari ne parleremo un'altra volta è necessario fare avere qualche piccolo accorgimento allora dipende un po' dalla situazione in cui ci troviamo e certo ci possono essere delle situazioni in cui le case sono completamente vuote e allora la nostra preoccupazione è quella di fare in modo che le persone che vedono le foto di queste queste case non riescano in qualche modo a recepire che cosa effettivamente può contenere quella stanza quello spazio specifico no per fare questo utilizziamo l'home staging probabilmente oramai se ne sente parlare anche in termini a volte abusato tutti lo conoscono esattamente e cosa significa in buona sostanza significa portare degli elementi di arredo in genere utilizziamo dei cartonati molto spesso che abbiniamo a delle a dei tessili per rendere tutto molto più gradevole eccetera in modo da far capire precisamente che in quella stanza ci può stare un divano ci può stare un tavolo ci può una tecnica e quindi è una tecnica di marketing fondamentalmente che serve per avere delle fotografie molto belle perché a questo punto vi potete immaginare che la foto in una stanza completamente la facciamo vedere la facciamo vedere non ci dice niente invece per esempio questa qui è una casa dove abbiamo fatto uno staging in questo caso la casa aveva già alcuni elementi di base però vedete non so abbiamo messo le piante i cuscini queste coperte e tutta un'altra situazione sui colori abbiamo fatto poi delle foto che potessero suscitare in chi le guarda un'emozione no questo è chiaro intanto abbiamo sicuramente fatto vedere alle persone che cosa ci sta in questo giorno e questo è importantissimo perché è una una stanza vuota per chi non è del mestiere magari dice poco e poi nello stesso modo nello stesso tempo abbiamo anche un po sbaragliato la concorrenza diciamocelo perché se andate sui portali e guardate le fotografie certe volte ci sono delle foto che sono anche un po imbarazzanti e quindi invece questa era bella sistemata magari c'è chi la preferisce vuota perché magari si immagina un po il tutto ma ovviamente non tutti non è addetti ai settori possono immaginarsi ma soprattutto comunque vediamo che ha un ottimo riscontro addirittura ti dico Gianluca a volte vedono la casa con l'home staging con i mobili di cartoni la comprano e la rifanno uguale uguale quindi questo per dirla e la dice tutta no poi invece quando questo lo facciamo per la vendita ovviamente